Guido Guidesi, la Banca Centrale Europea bacchetta l'Italia dicendo che non ha fatto nulla o poco per ridurre il deficit. Lei come commenta? Anche non è una verità, l'Unione Europea da tempo oramai chiede misure che contrastino il continuo aumento del debito pubblico, che contrastino per cui l'aumento della spesa pubblica è relativo, continuo aumento anche del deficit, nel rispetto dei vincoli che l'Unione Europea ha imposto agli Stati. Quello che noi diciamo è che lo show fatto ieri dal Presidente del Consiglio, che è solo ed esclusivamente uno show da campagna elettorale, non rispecchia invece la realtà, perché la realtà è quella che lui debba andare in Unione Europea e farsi rivedere alcuni vincoli che ha imposto l'Unione Europea che noi riteniamo ingiusti. Se il Presidente del Consiglio farà questo sarà credibile, ma siccome noi siamo convinti non lo farà, è un Presidente del Consiglio che è solo un segretario di un partito che utilizza le istituzioni per far campagna elettorale. A proposito di deficit, sulla Salva Roma, la Lega Nord che cosa chiede? Arriva la prossima settimana nelle commissioni bilancio e finanze della Camera l'ennesimo provvedimento, il terzo tentativo, dopo che siamo riusciti a far saltare i primi due, di aiuto e di sostegno al bilancio del Comune di Roma. Noi oggi in ufficio di presidenza delle due commissioni abbiamo chiesto che il Sindaco di Roma venga in audizione davanti alle due commissioni a dirci chiaramente qual è il debito pubblico, le cifre del debito che ha il suo Comune. Se farà questo la discussione credo sarà una discussione di contenuti, ma affinché non si riuscirà a certificare il reale debito di questo Comune, noi non siamo disposti a parlare di nulla.